Siamo arrivati alla quarta settimana delle luci dell'Irno, il bilancio è estremamente positivo, ormai abbiamo registrato centinaia e centinaia di presenze, migliaia si può dire, di presenze di cittadini non solo di baronissi ma di tutto l'Interland, dell'Agronocerino, dell'Avellinese, anche da altre parti della provincia, addirittura da fuori regione. Questo ci gratifica e ci convince sempre di più che l'esperimento che stiamo portando avanti sta riuscendo. Ogni settimana c'è un tassello in più che si aggiunge, questa settimana infatti in queste ore stanno allestendo il mercatino della Coldiretti in Parco della Rinascita che sarà veramente un fiore all'occhiello della manifestazione e nella stessa località del Parco della Rinascita verrà anche installato il famoso albero di Natale, altro 12 metri e completamente illuminato. Un'attrattiva ulteriore per un villaggio che ormai è globale. Abbiamo dato la possibilità di fruire ai tanti cittadini di una serie di attrazioni che non si è mai verificato che ci fossero né a Baronissi né in tutta la zona, dai mercatini natalizi dei prodotti tipici a quello appunto della Coldiretti, alla pista di pattinaggio in ghiaccio vero, a una serie di attrazioni artistiche spettacolari che ogni fine settimana stanno allietando tutte le centinaia di cittadini che appunto si riversano per le strade. Una boccata di ossigeno sempre più consistente per i commercianti che cominciano a credere in questa iniziativa e collaborare effettivamente con l'amministrazione. Anche la domenica pomeriggio, la domenica sera ormai tutte le vetrine del corso principale rimangono accese e incominciano a riempirsi di gente. È una spallata forte che stiamo dando alla crisi che attenaglia soprattutto la categoria commerciale e di questo siamo molto molto soddisfatti. Continueremo con questa nostra filosofia affinché Baronissi diventi definitivamente una città dell'attrazione che consenta veramente di praticare una svolta definitiva. Da città dormitorio che è stata fino a un anno fa dove praticamente si praticava solo il passaggio delle macchine ad una città accogliente che invita al passeggio famiglie, bambini e tutti quanti vogliono trascorrere serenamente i fine settimana, i weekend e anche periodi come questo, quello natalizio che è per definizione un periodo dove ci si dedica al relax e anche alla spesa, al consumo. Tutto questo ci rende consapevoli e responsabilizza perché vuol dire che dovremo continuare con questo messaggio che stiamo dando, con questa filosofia e quindi daremo continuità anche negli altri mesi dell'anno per far sì che veramente Baronissi diventi di nuovo una città commerciale, una città dell'attrazione e rinasca con l'intera comunità che sta...